Sono soddisfatto soprattutto della straordinaria partecipazione di ieri al congresso e per il dibattito che si è messo in gambo. Ieri abbiamo visto più dell'80% del partito discutere sui problemi della città e metterci la faccia. Oggi Giela sta vivendo uno dei momenti più complessi della storia recente della città ed è giusto che il primo partito mette in gambo tutto il meglio delle forze possibili per dare delle risposte adeguate ai problemi che oggi ci sono e sono tanti. Lala Renziana però ieri non ha partecipato. Cos'è? Una guerra in famiglia all'interno del PD? No guarda io parto sempre da chi c'era. Io dell'ala Renziana ho visto dirigenti storici e renziani della prima ora tra tutti il capogruppo Enzo Cirignotto, l'ex capogruppo Giacomo Gulizzi e tanti altri. Ieri c'era il partito. Mi pare che qualcuno forse orfano del potere è un po' nervoso ma diciamo noi non interessa. Noi dobbiamo dare risposte a una città che in questo momento ha tantissimi problemi e abbiamo il dovere di metterci la faccia. Però qualcuno dell'ala Renziana ha definito il congresso di ieri un congresso di carnevale. C'è qualcuno che pensa di poter screditare il PD attraverso sterili polemiche. A me non interessano le polemiche. A me interessano i problemi di Gela. Il partito democratico in questo momento deve risolvere i problemi di una vertenza storica. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Stiamo vivendo una crisi difficilissima. In questo momento alla città noi vediamo le nostre polemiche. A livello esterno noi abbiamo il dovere di dare risposte e di mettere in gambo un gruppo di vigente innovativo che abbia l'orgoglio da partito democratico di dare risposte a questa città. Perché questa città lo merita. Noi non siamo il primo partito della città perché abbiamo vinto un sorteggio ma perché i gelesi ci hanno votato. Rispetto a questo noi dobbiamo esserci. Si parla addirittura di ingiugi. Io sono orgoglioso del fatto che dirigenti storici sia del primo circolo sia del circolo gelacendro e di un pezzo del circolo che farebbe riferimento a questo pezzo di Renziani ieri mi hanno sostenuto. Sono dirigenti che hanno messo passione e impegno da sempre nel partito e quindi il fatto di essere stato sostenuto da dirigenti storici che hanno fatto anche scelte diverse ma che in questo momento si sono ritrovati assieme su un percorso che è il percorso di dare al partito democratico un gruppo dirigente che abbia l'autorevolezza, la forza e il coraggio di rappresentare le istanze legittime che Gela oggi pone. Come si risolve la vertenza Gela? Si risolve senza prendere in giro nessuno, la vertenza Gela si risolve con impegno, la vertenza Gela si risolve nell'unità di tutte le categorie produttive. Vede, noi non siamo un sindacato, noi siamo un partito e il partito ha il dovere di dare rappresentanza e risposte. Quello che tendiamo di fare lo facciamo senza populismo, lo facciamo all'interno del partito, lo facciamo orgogliosi dei nostri gruppi dirigenti regionali e nazionali e all'interno del partito siamo pronti anche a litigare per dare rappresentanza ai gelesi perché la vertenza Gela non è una questione di Gela, la vertenza Gela è una questione che riguarda la regione e l'Italia, è un problema industriale straordinario, io il protocollo non l'ho firmato, probabilmente si potrà mettere in gambo un protocollo migliore, ma oggi quel protocollo va fatto rispettare, l'ENI deve prendersi le sue responsabilità e in questo momento i lavoratori hanno, che stanno dando una prova di civiltà enorme, anche meglio rispetto a certi pezzi della politica, con grande civiltà stanno mettendo in gambo una protesta giusta che va sostenuta e la politica lo deve fare senza populismo e con serietà.